Allora, amici della Virtus, quando Luca Banchi e la sua banda scatenata si imbarcano sull'aereo per andare a fare le trasferte, oggi noi giocavamo a Bologna e questo signore qui ha fatto un po' l'aereo, ma quando loro si imbarcano per andare a fare le trasferte, le palle sono talmente grosse che non ne le fanno passare come bagagli a mano, non ci vanno sull'aereo, devono andare in stiva, devono andare con una spedizione speciale perché sono troppo grosse, troppo pesanti, e quindi è un carico speciale, questo signore qui ha due coglioni grossi, è presente qui, con quelle palle dove ci salti per giocare, ecco, è così, questo signore qua, hai capito questo signore qua, non solo lui, non solo lui, perché stasera Daniel, Daniel, tu, amor di popolo, non a furor di popolo, ad amor di popolo, Daniel Hackett ha fatto una partita straordinaria, nonostante che la Virtus nel secondo quarto, eccolo, l'uomo più sexy del 2023, Luca, 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 che abbiamo fatto stasera? Mamma mia, che vittoria ragazzi, che vittoria, questo non è un video post partite, è un video un po' un delirio, mi rendo conto, vi avrò fatto anche venire il mal di testa, vabbè, vabbè, ne parliamo meglio domani della partita, stasera non ce la faccio, troppo mal di testa.